Allora, praticamente, quando sono andata a firmare, non so se ti ricordi, quando sono andata a firmare la proposta, allora praticamente io vedo questa casa, mi piace e decido di comprarla, ok? Grazie a Acuren18. La mattina, presto, dovevo andare all'agenzia immobiliare per firmare la proposta di acquisto. Ma di questa casa? Sì, sì, sì. Che te non c'eri. Te, vabbè, non c'eri e vado all'agenzia immobiliare, vado a firmare, c'era il tipo dell'agenzia immobiliare che mi presenta il foglio e che c'è scritto tutto. E allora, il proprietario di questa casa... No, sì che c'ero, amore, Dio Cristo. No, quando ho fatto la... Quando hai riso, sì. Va bene, comunque, ero lì, io non so perché, il vecchio proprietario si chiama Chiavaro, di cognome. Vabbè, ero stanco perché era la mattina presto, quindi ora avevo dormito una sega. Vado lì, mi rilegge tutta la mia proposta di acquisto e a un certo punto fa, io, Dario Moccia, decido di proporre al signor Chiavaro. Quando ho detto Chiavaro, notaio, io sono lì che stavo... E inizio a scoppia a ridere. Scoppia con mi padre e il tizio, così. Il tizio, ma scusa, ma cosa ridi? No, Chiavaro mi ha fatto ridere, scusi. Mi fa, mi guarda... Cioè, mi fa proprio sconsolato e dico, vabbè, è il solito coglione. E il tizio dell'agenzia dei migliori ti fa ridere il cognome? Eh, sì, un po', non so, perché, scus, continuo a leggere e poi firmo. Eh, non so, in ogni tanto...